Perché ha disobbedito agli ordini e ha iniziato a indagare da sola? Volevo conoscere la sua identità. La sua intraprendenza mi sorprende. È illegale, è chiaro, ma rigenerante. Gabrielle Defoe, professore di teoria della gravità quantistica alla Greenwich Park University. Ho il sospetto che Defoe sia coinvolto in una nuova rete terroristica nota come la Cappella Pericolosa. Voglio che lei lo trovi. Perché io? La Cappella Pericolosa mi vuole morto. Mi serve qualcuno di cui possa fidarmi. Mi serve un seguccio. Ne sono onorata, signore.